Mr.Blood, attenzione, all'ultimo momento Gabriele, via, partite! E' il vantaggio Bunga River davanti a Ricattatrice. Little Baby Beer, Elusidenite, Adanesh, Ganassia de Manu, Amornia, It's Blood, Travicello, Supernera, Serala Store Polcacchieri all'inizio della curva, in vantaggio Adanesh, davanti a Ganassia de Manu, Donda River, Ricattatrice, Amornia, Travicello, poco prima dell'ingresso di vittura, passa Ricattatrice, davanti a Ganassia de Manu, Donda River e Travicello, i cavalli entrano in vittura, con Ricattatrice in vantaggio lungo la corda, davanti a Ganassia de Manu, Travicello, Elusidenite a centropista, It's Blood per linee interne, e in leggero vantaggio Ricattatrice attaccata allo sterno da Ganassia de Manu, passa Ganassia de Manu, davanti a Ricattatrice, It's Blood, Serala Store, Elusidenite, in vantaggio Ganassia de Manu, davanti a Ricattatrice, Serala Store, It's Blood. Ganassia de Manu, segnalata da Gabriele, segnalata da Piero, non ha tradito, Mauvi Centro Vargi in sella, che bella quota, 4,14, agli altri campi. Eh sì, riamiriamo il successo di Garazio de Manu, che era molto favorita, l'ultima volta aveva deluso, per lavorare con Gabriele, nelle fasi della produzione della mattina, un cavallo che sono lì, poteva fare molto bene, ha confermato appunto le altre persone, che aveva restato a caldo giusto, eh, come intenzione.